La Regione Friuli Venezia Giulia è promossa sul bilancio, a dirlo il Presidente della Corte dei Conti Regionali Antonio Caruso al termine dell'udienza di parifica del rendiconto 2016. Durante l'udienza però tanto il Presidente quanto il Referendario Marco Randolfo e il Procuratore Generale Tiziana Spedicato hanno dato un giudizio positivo sulla gestione dell'ente pur rilevando le dovute criticità da medio credito all'armonizzazione contabile della sanità. La partecipazione della Regione in banca medio credito è tra le più problematiche come si è già riferito negli scorsi anni, ha detto la Spedicato. La Regione ha rivolto anche nel 2016 particolare attenzione alla società partecipata e puntando al risanamento e al rilancio dell'attività verso la clientela regionale si è mossa in direzione di una partnership industriale bancaria di maggior respiro alla quale collegarsi. Cioè nonostante il risultato della gestione operativa, pur positivo, continua a registrare un costante decremento. Secondo il Referendario Marco Randolfi, l'esclusione della sanità del Friuli Venezia Giulia dal meccanismo dell'armonizzazione contabile solo in parte giustificata dal regime di autofinanziamento da un lato sta generando effetti contrari alle logiche che sovrintendono al coordinamento della finanza pubblica e ai principi dell'armonizzazione cui dichiaratamente la Regione non sia adeguata. Dall'altro, sempre secondo Randolfi, sta fornendo rappresentazioni contabili non pienamente regolari nella gestione degli enti del servizio sanitario regionale. Secondo la Presidente della Regione Serracchiani, la problematicità della vicenda a medio credito si comprende guardando a quel che succede alle banche venete e a quanto questo incida negativamente sul nostro territorio, sul nord-est e sull'intero sistema bancario italiano. Al sistema sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'armonizzazione dei bilanci non si può applicare, non con queste regole e certamente non lo si può fare neppure volontariamente come abbiamo pur fatto in altri settori in passato. Quindi sarà necessario un intervento dello Stato e sarà necessario anche che nei rapporti Stato-Regione questo venga chiarito. Per il resto la cosa che conta è che anche per quanto riguarda la sanità i conti sono in ordine.